signori buongiorno e bentornati sul canale del master che io sono il master che ha il vostro ospite su questo canale è finito il mese degli speciali tra una cosa e l'altra possiamo finalmente riprendere con la programmazione regolare del canale o tecnicamente è finito per voi questo video io lo sto registrando ancora prima di partire per lucca quindi è possibile che adesso che voi lo vediate in realtà sia collassato sul mio divano a cercare di riprendermi prima dell'interruzione data da tutti gli speciali in sequenza avevamo cominciato a parlare dei giocatori e della loro gestione all'interno di una campagna ma anche solo di una quest e soprattutto quella relazione tra loro e i personaggi prima di andare avanti però bisogna rispondere a una domanda apparentemente banale il titolo del video l'avete visto questa settimana andiamo a parlare di che cos'è un avventuriero e dato che questo è un video del master k è la risposta a questa domanda è molto più lunga e complessa di quello che potete aspettarvi ora con avventuriero si intende il nome con cui vengono chiamati i personaggi giocanti all'interno del gioco normalmente avventuriero è lo standard per i giochi fantasy alcuni giochi chiamano gli investigatori o semplicemente i protagonisti gli eroi alcuni giochi hanno delle diciture specifiche legate alla lord alla loro ambientazione diciamo che qualunque sia il nome con cui li chiamate all'avventuriero è il termine che useremo in questi video per intendere cosa si presuppone faccia il personaggio all'interno dell'ambientazione del vostro gioco e il punto fondamentale è proprio questo quale sia il nome con cui viene chiamato all'interno del vostro gioco o anche quale sia lo scopo che deve portare a termine dentro il gioco non è rilevante per il discorso su questi argomenti abbiamo già parlato all'inizio della stagione vi lascio piuttosto il video linkato qui in alto se dovete andarlo a recuperare ma quello su cui voglio portarvi a riflettere questa settimana è proprio quali sono le aspettative che un personaggio avrà all'interno dell'ambientazione e cosa si presuppone il giocatore gli faccia fare una volta che il gioco è iniziato e se avete seguito il canale fino a questo punto la risposta dovrebbe essere per voi ovvia cioè che tutto dipende da quale è l'intenzione che il master e i giocatori hanno per quel personaggio all'interno del mondo di gioco durante la fase di preparazione e l'avventura siate chiari con i giocatori su qual è il comportamento che prevedete che i loro personaggi abbiano e discutete anche se effettivamente questo è la stessa cosa che presuppongono loro e nel caso comunque se siano interessati a farlo se siano interessati a fare qualcos'altro voi potreste scrivere il miglior dungeon possibile che si estende per 40 livelli con 600 incontri tutti perfettamente bilanciati per i personaggi e interessantissimi puzzle ambientali e quella potrebbe essere la più grande quest mai scritta a memoria d'uomo ma se poi la gente che deve giocarci in realtà è interessata al dungeon di tre stanze e poi si torna tutti a bere in locanda e a fare battute con l'host e goblin che è tanto simpatico stareste sprecando il vostro tempo a preparare la quest e quello dei vostri giocatori che poi dovranno giocare qualcosa che non sono interessati a portare avanti una specifica avventura potrebbe anche presupporre specifiche motivazioni che guidano i personaggi o specifici comportamenti che i giocatori dovranno far tenere loro e che comunque il mondo di gioco si aspetta per quel tipo di personaggio al suo interno magari nel vostro mondo di gioco fantasy banale più piatto che potete vedere però gli avventurieri sono considerati individui nobili e eroici che proteggono la civiltà dal male e quindi fare l'avventuriero è una delle professioni più altolocate che esiste e ci si aspetta quindi che gli avventurieri siano tutta gente dei nobile comportamento alto lignaggio e che siano rispettati da tutti ma magari in un'altra ambientazione altrettanto fantasy altrettanto piatta altrettanto banale si parte dal presupposto che fare l'avventuriero in realtà sia il rifugio dei dei sperati di chi non c'ha voglia di lavorare e che gli avventurieri siano in realtà poco più che criminali guardati dall'alto in basso da chiunque incontrino fate in modo che questo tipo di informazioni per quanto voi magari riteniate scontate siano chiare ai vostri giocatori e che sia chiaro sempre per loro che cosa devono aspettarsi che sia il comportamento previsto per lo standard del loro tipo di personaggio all'interno del vostro mondo di gioco volendo mantenere il nostro esempio però andare a combattere esplorare un dungeon può essere qualcosa che sembra scontato ma in realtà non è un incarico così preciso o impossibile da fraintendere un master per esempio potrebbe pensare che una quest basata sull'esplorazione di un dungeon voglia dire la progettazione di un enorme complesso sotterraneo in cui i personaggi dovranno andare a esplorare indagare cercare aprire tutte le stanze in una struttura di vari piani che per essere esplorata richieda magari molte 10 20 sessioni durante i quali i personaggi dovranno sempre stare sul chi vive perché potrebbero arrivare mostri erranti incontri casuali e nel frattempo dovranno gestire le torce per poter illuminare dovranno gestire le razioni di cibo per vedere quanto possono ancora andare avanti magari incantesimi cure trovare da riposare tutta una gestione particolarmente granulosa delle risorse del party questo tipo di questi infatti sono molto diffuse e hanno anche un loro nome si chiamano avventure catabatiche non necessariamente però vuol dire che i giocatori al tavolo siano d'accordo con questa definizione o più che altro diano per scontato che sia la stessa magari per loro un'avventura in cui si esplorano i dungeon vuol dire che il dungeon è un insieme di 4-5 stanze con magari un paio di combattimenti un indovinello e un tesoro alla fine che faccia ricompensa il tutto che si possa chiudere in un paio di sessioni per poi tornare all'esterno e utilizzare il tesoro per comprare oggetti rivedere risorse o magari interagire con l'ambientazione in modo più lasco nessuno di questi due tipi di avventura è intrinsecamente migliore o peggiore dell'altro preferirne uno o l'altro è semplicemente una questione di gusto personale e a livello di narrazione a livello di proprio portare una quest al tavolo sono entrambi efficaci e entrambi diffusi se però il master intendeva esplorare un dungeon in un modo e i giocatori intendevano esplorare un dungeon nell'altro ovviamente quando questo verrà portato al tavolo ci saranno dei problemi e questo non riguarda solamente il modo in cui la quest viene scritta e organizzata per essere portata al tavolo anche proprio il vero e proprio comportamento che i personaggi dovranno tenere all'interno della quest cioè qual è il comportamento di un avventuriero per molti l'avventuriero del fantasy è fondamentalmente un tombarolo itinerante che vive di espedienti cercando di razziare antiche tombe per poi tirare a accampare con quello che riesce a depredare di queste tombe e il fatto di dover combattere per arraffare il bottino è semplicemente uno degli incidenti del mestiere che anzi più si evita meglio è però magari per un altro gruppo la parte importante è quella di essere proprio degli eroi degli agenti del bene che vanno nei dungeon per distruggere i mostri maligni combattere il male nel mondo ed evitare che il male da lì si diffonda o al contrario potrebbero essere degli agenti del male impegnati in una crociata per spazzare via città sotterranee dei nani e portare al dominio delle forze del male su tutto il sottosuolo anche in questo caso tutte e tre le alternative sono fondamentalmente ugualmente valide e qua ci stiamo limitando solo ai stereotipi più banali del fantasy se dovessimo prendere in considerazione tutto quello che è il possibile comportamento di un avventuriero questo video dovrebbe 15 giorni il gruppo di giocatori però che si aspetta di essere appunto una banda di tombaroli che tirano a campare probabilmente resterebbe perlomeno confuso quando il master prevederebbe che nella quest ci fossero nobili paladini e re buoni che danno loro missioni tanto quanto il gruppo di valenti eroi che vuole combattere contro le forze del male potrebbe trovarsi spaesato quando vedrà che fuori dal dungeon la maggior parte degli ambienti previsti sono fumose loccande in vicoli secondari dove si raggiungono mercenari di bassa categoria e tutto questo ci riporta alla domanda iniziale del video cioè che cos'è un avventuriero questa è una questione che è saltata fuori discutendo con gli altri master durante il salotto del master kai di qualche mese fa oramai tempo che vedrete questo video che proprio il fatto che il master in sessione 0 comunque durante la preparazione della quest da per scontato un determinato interesse o un determinato comportamento che verrà tenuto in sessione da parte dei personaggi giocanti che però non è mai stato né discusso né concordato prima e qui stiamo parlando del comportamento dei personaggi non di come si comportino o di che cosa piaccia ai giocatori seduti al tavolo proprio quale sarà il comportamento che i loro personaggi terranno all'interno dell'ambientazione detto in parole più semplici molto spesso viene dato per scontato che i personaggi all'interno del mondo di gioco tengano un determinato comportamento quale sia questo comportamento dipende dal gioco dall'ambientazione e soprattutto dalle aspettative del singolo master e del singolo giocatore ma ogni persona ha un suo punto di vista su che cosa voglia dire come abbiamo detto all'inizio essere un avventuriero questo non vuol dire che la definizione che io ho in testa corrisponda con la definizione che ha in testa qualcuno di voi questo può diventare un problema se la quest è scritta con il master che presuppone determinati comportamenti e determinate scelte da parte dei personaggi che però non sono effettivamente quelli che i giocatori che prenderanno parte alla quest non solo sono intenzionati a fare ma non pensano neanche il dover essere chiamati a fare volendo fare un esempio pratico se prendete il manuale di dungeons and dragon qualunque sia la vostra lezione preferita da questo punto indifferente vedrete che il 90 per cento delle regole sono regole che servono per gestire o il combattimento o l'esplorazione all'interno di spazi ristretti e definiti che sono appunto i dungeons in dungeons and dragon gli avventurieri vanno a esplorare i dungeon e combattere contro i mostri anche perché sennò avrebbe dovuto cambiare il nome del gioco e a livelli di marchio sarebbe un casino si presuppone quindi che se io adesso debba mettermi a scrivere una quest per dungeons and dragon questa quest riguardi in qualche modo il fatto che i personaggi dei giocatori saranno chiamati ad andare in un dungeon e dovranno all'interno di questo dungeon esplorare e combattere tutte queste sono apparenza cose estremamente ovvie il problema salta fuori proprio quando ciò che è ovvio per me che sto scrivendo la quest non è la stessa cosa che ovvia per quello che effettivamente la quest deve venirla a giocare quello di partire dal presupposto che i giocatori tengano spontaneamente al tavolo il comportamento che il master fondamentalmente ha solo nella sua testa senza che questa cosa sia stata discussa prima è un classico errore del master principiante e porta molto molto spesso a rovinare l'esperienza di gioco per tutti molto spesso questo è semplicemente causato dall'inesperienza master e giocatori che hanno effettivamente poca esperienza col gioco di ruolo magari hanno giocato poco magari hanno giocato a un solo gioco e quindi danno per scontato che l'esperienza di gioco che hanno avuto loro in realtà rappresenti la totalità dei modi di gioco e non solamente uno dei possibili modi e magari neanche quello più diffuso in alcuni casi no gente mi dispiace molto più complicata di così guardate solo quanti video a questo canale tra l'altro quello di giocare con molti gruppi diversi a molti giochi diversi è anche uno dei modi più facili e veloci per fare molta esperienza molto in fretta e in questo modo vedere una varietà di approcci e farsi un'idea non solo del fatto che esistano approcci diversi che non tutti diano per scontate le stesse cose ma anche capire magari qual è l'approccio che si preferisce ed essere in grado di descriverlo agli altri da questo punto di vista questo intero video potrebbe essere un caso particolare del paradosso di Evelyn ne abbiamo parlato in un altro video vi lascio linkato qua su anche quello per questo video invece è tutto ora io credo che sarò ancora collassato sul divano a riprendermi da Luca nel caso vi leggerò nei commenti quindi adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto quali sono le cose che per voi definisco un avventuriero e se vi è mai capitato di trovarvi al tavolo con gente che avesse un'idea del tutto opposta alla vostra su che cosa ci si aspetta da parte dei personaggi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che tutta cresce il canale iscrivetevi e scacciate la campanella se volete ricevere notifiche in descrizione trovate i link al server di discord al gruppo telegram dove si riunisce il resto della community dove ci si confronta tra di noi appunto per fare più esperienza io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao